abitiamo in un nuovo quartiere in periferia che fino a quattro anni fa era campagna ora è cemento con qualche metro di verde in quel verde risparmiato dall'uomo si sono adattati a convivere gli uccelli noi siamo abituati a non buttar via le briciole dei pasti perché seppur briciole sono sempre briciole grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.